Per i tifosi e l'ambiente bianconero sicuramente è stata una settimana particolare con un primato celebrato e festeggiato, ma non per Costa Runiech che predica realismo, umiltà e tranquillità. Insomma, un ritorno allo Stinkal Moods di Guidoliniana Memoria. Non abbiamo parlato così molto noi, è sicuramente un bellissimo momento, ma dobbiamo essere realistici. Il percorso che dobbiamo ancora percorrere è di gran lunga più lungo rispetto al numero di partite che abbiamo appena giocato. Dobbiamo affrontare un grandissimo numero di partite. Friule e Doc c'è stato un bel evento la scorsa settimana, vi era una bella atmosfera nonostante mal tempo. Noi vogliamo continuare con questo entusiasmo, vogliamo essere ottimisti. Indipendentemente dalla situazione esterna, dai risultati, noi vogliamo continuare con il nostro processo. Intanto l'allenatore dell'Udinese pensa a quella che sarà una settimana intensa la prossima con la Coppa Italia tra Roma e Inter, esaltando anche il lavoro di staff per il recupero mentale di alcuni giocatori. Brenner su tutti. Quindi non si tratta di provare o meno giocatori. La partita di mercoledì non sarà una partita per testare giocatori, bensì sarà una partita molto seria in quanto vogliamo assolutamente passare il turno. Se c'è un problema noi parliamo con il giocatore e cerchiamo in maniera abbastanza rapida di dare le nostre spiegazioni al giocatore e trovare una soluzione. Fino ad ora io sono soddisfatto di come abbiamo lavorato. Bisogna dire che vi è molta concorrenza, nessuno può dormire sugli allori. Dobbiamo dare gas. Tutti devono lavorare in maniera intensa in ogni allenamento. È quello che voglio vedere sul campo allenamento ed è quello che i miei giocatori dovranno mettere in pratica.